Ci troviamo presso il santuario di Santa Lucia, nel territorio del comune di Morra de Sanctis, in provincia di Avellino. Una tradizione per noi e una devozione che si ripeta ogni anno, il giorno 13 di dicembre. Tutte le comunità del circondario limitrofi hanno una grande devozione per Santa Lucia, pertanto in questo giorno partecipano alle messe e a tutti i riti religiosi. E' da ricordare la famosa fiera di Santa Lucia che c'è l'ultima domenica di settembre, molto partecipata e amata da tutto il circondario. Santa Lucia prega per tutti noi e fa sì che possiamo vivere queste festività natalizie con il cuore pieno di gioia, di solidarietà e ad amore. Arrivederci da Santa Lucia, nel comune di Morra de Sanctis. Arrivederci dall'Irpinia. Arrivederci da Santa Lucia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Santuario di Santa Lucia è un'antica chiesa campestre, già citata a fine Cinquecento nelle relazioni ad illimina dai vescovi di Sant'Angelo e dei Lombardi e Bisaggia. Distrutta dal terremoto del 1732 e subito ricostruita dai fedeli, restaurato in ennesima volta nel 1839 e infine nel 2005. E' al centro dell'omonima fiera del 13 dicembre. Grazie a tutti. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione